E benvenuti ragazzi, oggi vediamo come avere le vite illimitate su Angry Birds 2 Allora, prendete il vostro cellulare o tablet, è la stessa cosa, apriamo il nostro gioco Allora, aspettiamo che si avvia un attimo Avvio di Angry Birds 2, accesso in corso Allora, io adesso per il momento mi è rimasta una sola vita E adesso andiamo a vedere come è, cioè quando perdiamo la nostra vita e dobbiamo aspettare tanto tempo per riavere tutte le nostre vite Senza programmi, senza hack, senza niente, possiamo aumentare le nostre vite Incredibile Allora, andiamo a sprecare la nostra unica vita che abbiamo In questo modo Allora, usiamo un uccellino, lo spariamo, non vedo niente Lo spariamo in basso Ecco qua, abbiamo mancato il nostro corpo Facciamo rinuncia E praticamente, se vedete, il cuoricino in alto a sinistra è volato via Ecco, ora abbiamo zero vite Adesso lo vediamo subito In alto a sinistra abbiamo zero vite Per avere una sola vita dobbiamo aspettare 24 minuti Come facciamo ad avere 5 minuti in un secondo? Semplicissimo Senza chiudere il gioco Andiamo nelle impostazioni E andiamo su data e ora Togliamo la data e ora automatica Andiamo sulla manuale Imposta la data Avanziamo di un giorno il nostro calendario Fate fatto Ritorniamo nel nostro super gioco Angry Birds 2 E magicamente, vedete, al sinistro in alto In un batter d'occhio sono arrivate a 5 cuoricini Funziona benissimo Infatti, andiamo a giocare una partita Gioca Cioè, io ho fatto così per un giorno intero Aumentare le vite Funziona benissimo Anche se riavviate il gioco Le vostre 5 vite rimangono Fino a quando non arrivate a zero Riavanzate di un giorno E le vostre vite si aumentano Quindi, il problema delle vite non c'è più Ci vediamo nel nostro prossimo video